Quando arriva aprile, quando in un istante si smette di dormire, si aprono le tende e tutto ha più colore, col cielo che ti accende sul treno a vapore. Tra poco c'è l'estate e si parla di vacanze, progetti di nottate e mi sboccio nelle stanze. Come ti va? Bene perché oggi è primavera. Come ti va? Bene perché oggi è primavera. E tutto? Accel! Leggere sono le gambe negli angoli d'aprile. L'aria è devastante, non la puoi spiegare, si gira su due ruote cercando margarita con le tasche vuote. Col cielo tra le dita, come ti va? Bene perché oggi è primavera. Come ti va? Col cielo tra le dita, come ti va? Bene perché oggi è primavera. Come ti va? Bene perché oggi è primavera. Ricomincia ancora Grazie